Sono Davide Pastore, ho 31 anni e lavoro nelle media relations di Banca Generali dal 2012. In questi anni la mia storia professionale e personale si è sovrapposta a quella della banca in un percorso che ci ha portato da essere un nuovo player nell'industria finanziaria ad una delle realtà di maggiore successo. Consiglio a tutti quanti un'esperienza in banca per contribuire a scrivere una delle storie aziendali più belle che ci siano.